Bella a tutti ragazzoli, benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista nel mondo signori miei Allora signori, non so a che episodi siamo arrivati, 63, 64, non era più palle l'idea Comunque signori miei, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state lasciando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite l'applicazione Paypal Comunque trovate i link per tutta la baradana sia dei social che per le donazioni in descrizione al video Detto questo partiamo e non perdiamo altro tempo Ok ragazzoli, allora gli ultimi episodi se non sbaglio non erano andati malissimo Oggi ci aspetta la partita con Queen Park Rangers Io non ricordo se c'era qualcuno che si era lamentato che voleva giocare Andiamo un attimino a vedere Volevo vederti lavorare sotto, la ringrazio, il tuo rendimento Ok, no, 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 nessuno che pretende di giocare, va bene La formazione, la formazione sono un poco stanchi ragazzi, sono un poco stanchi Quindi vediamo un attimo di fare qualche sostituzione che sicuramente ci costerà Allora, leviamo Moritz e facciamo giocare... Leviamo Nicholson e facciamo giocare Esposito Al posto di Mariani facciamo giocare... Raid è rotto? No, Raid è più stanco ovviamente dei titolari Ottimo, Raid resta in campo Casa Dei deve giocare perché abbiamo Kuruma che è inguardabile Droll è il nostro unico esterno destro Al posto di Harwood torna Hamilton che è incavolatissimo Quindi lo facciamo giocare Salazar è ancora rotto E al sinistra al posto di Mitchell facciamo giocare Watanabe Raga, un po' di turnover che mi tocca fare per forza Perché se no noi non riusciamo completamente a uscire dalla situazione praticamente Non riusciamo a far recuperare nessuno Quindi un po' di turnover lo devo per forza fare Andiamoci a giocare la partita contro il Queen Park Rangers Signori miei, siamo ospiti Certo, una vittoria oggi sarebbe tanta roba Papa Maullo parla per noi Loro vengono da un pareggio di 2-2 E vediamo che ci fanno noi Vinciamo 4-0, raga 4-0 pulito, pulito, pulito Pulito, pulito, signori miei Gol di Nicholson che segna sempre Eppure se parte la panchina Nicholson segna comunque Un gol di Naga, bravo Un gol di Amponsan, un gol di Hamilton Dai, Hamilton non si può lamentare Giocato titolare e assegnato pure Deve essere bello contento Nel frattempo è stato ammonito a Amponsan E sono usciti sia Esposito che Claudio per Morris e Nicholson Va bene, quindi Claudio e Morris si sono alternati Va bene così 4-0 pulito, pulito, signori miei 4-0 pulito, pulito Bello così Bello, 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 bello Ci stava questa bella vittoria Per tirare sul morale di tutti quanti Allora, grazie per avermi rimesso informazione Veramente è già stato in panchina Non so se sei entrato Non mi ricordo se sei entrato nel secondo tempo Ma comunque apprezzo il tuo impegno Teniamo sempre sul morale di raid Che anche lui è un gran bel fenomeno Vediamo un attino gli allenamenti Signori miei Abbiamo allora Casa dei va bene Esposito va bene I due esterni Poi abbiamo Peter Pan Amponsa e Dudu Allora io li verrei Amponsa che tanto comunque gioca E metterei Kuruma Signori miei Noi abbiamo un Kuruma Che deve crescere pesantemente Ci vuole un'interessazione E' un'altra difficile Ok Va bene questo Lavoro su questo Kuruma Se no non vedrai mai il campo Kuruma mio Esposito sale a 68 Bravo Esposito Bravo Esposito Dai 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 Che inizia Che hai qualche possibilità Di vedere il campo Poi signori miei Andiamo avanti col calendario Finiamo novembre E entriamo a dicembre Dai così Offerta per la nazionale Non ci interessa Il 3 dicembre Abbiamo la partita contro lo Suonzi Sono arrivati gli osservatori Mamma che cacciata Che è successo a raga Allora Calma e sangue e freddo Offerta è ritirata Non ci interessa Ha reso conto Squadra primavera Ora andiamo a vedere un attimino L'osservatore Nicky Vediamo che ci ha portato Nicky Dall'Arabia Saudita Allora abbiamo Halim Hal Malahad Che non ci piace per niente Ciao Alamad Zuabi Non ci piace nemmeno Zuabi Siam Non ci piace nemmeno Siam Aljur Aljur Non ci piace manco Alkiklaiwi Manco lui Niente All'Arabia Saudita Non arriva niente di interessante Signori miei Poi abbiamo Bell Bell Che dal Messico Ci porta Miranda Che lo stiamo osservando Già il secondo mese Che lo osserviamo Eh Miranda non è tanto male Monte Che non è Non è Non è Incalcolabile Enrique Romero Portiere già pelato A 16 anni Mamma mia C'è grossi problemi amico mio E Urtato Questo è già Urtato di suo Lasciamolo andare via Che non ci interessa Un altro monte Il fratello di quello di prima Che non è guardabile Rivero Rivero Se non ci interessa Vabbè 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 Sampaio 86 Non ci interessa Poi abbiamo Abru 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 è un esterno destro Abru lo portiamo dentro Abru Pensaci tu Non è male Signori miei Ha un potenziale tra 72 e 92 No Non abbiamo un esterno destro Lo portiamo dentro Telmo Rodriguez È inguardabile Ricaldo Alvarez No La primavera è al completo Dominguez Dominguez Lo teniamo sotto d'occhio E Fabio Perez No Allora abbiamo la primavera Che ha al completo Signori miei Quindi abbiamo un attimino Anche andare a vedere Un attimino La primavera E noi ci gioca La prima partita Con lo swon Sì è lo swon Questo E lo swon Sì è lo swon Sì è confermato Che è sesto Questo è lo scontro diretto Raga Siamo a 10 punti Dallo swon Se riuscissimo a vincere Questa partita Sarebbe tanta roba Allora Vediamo un attimino Di rimettere però i titolari Naga 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 Ritorna Morris Che già si sta arrabbiando Esposito Torna Nicholson Ok Amponsan Mariani Fuori Mariani Dentro Raid Se non si arrabbia Casa dei titolari Drollo A posto di Hamilton Facciamo giocare Harwood Così si alternano Lima Gioca titolari A posto di Watanabe Torna Mitchell Che già Già mi guardava male Mitchell Raga Già Mitchell Mi stava guardando male Va bene Sono tornati in campo I titolari Diciamo Speriamo di riuscire A portarci a casa Altri tre punti Importanti contro lo swonzy Swonzy Scontro diretto Signori miei Loro vengono Dalla sconfitta Contro Sheffield Siamo fuori casa Siamo fuori casa Che ci famo noi Vinciamo 2-0 Contro lo swonzy Raga Spettacolo Gol di Mitchell Un gol di Morris 2-0 Porca miseria Ammonito drollo Va bene Va bene Signori miei Ammonito drollo Però va bene 3-0 Contro la sesta In classifica Tanta roba Tanta roba Allora Andiamo a fare gli allenamenti Rimettiamo gli allenamenti Leviamo Casa dei Che comunque è un 72 Va bene così Leviamo casa dei Signori miei E andiamo a mettere L'esterno destro Che abbiamo preso poco fa Esterno destro Abbiamo Amin E Abru Aha E che è migliore di Amin E Abru Amin Abru 1-76 Per 1-87 Con lui vale 70 A lui vale 210 Lui c'ha Quanti anni c'ha lui 15 anni Quindi non vedrò mai il campo Alleniamo Abru Abru Alleniamo Abru Dai dai Proce scattano Contro la palla dribbling Se no Incertazione contro le vede Scivolata Ok Se no Altrimenti Scivolata contro le vede Lettore difensiva Intercettazione Ecco Quelli devi lavorare Amin Abru Ah no Lui è Abru Che già sale a 52 E Peter Pan sale a 66 Grande 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 Allora Abru io me lo porto già in panchina Raga Amare estremi Estremi ripendi Lo proviamo subito Abru Male che vada Lo mandiamo poi In In prestito In prestito In prestito a gennaio Allora Vediamo un attimino Come siamo messi Lino a rile Era un esterno sinistro 85 91 Musan Ponsa Questi hanno tutti i 15 anni Quindi non si possono toccare Amin Un 72 90 Di 57 Ok Esterno sinistro Diaganà 80 86 No mi dispiace Deve essere sui 90 Per rimanere in primavera Amico mio E Ibanez esterno sinistro 82 88 No Ciao Mi dispiace Ibanez fuori Amin abbiamo detto Un 72 90 Questo è un esterno destro Nistrom Un 50 82 88 No Via anche lui Franco Gomez Difensore 77 83 Oscar Ericsson Ericsson 81 87 No raga Noi dobbiamo tenerci German Rivero 72 90 Sanz 74 88 Amaral Amaral è forte 71 93 Carvacal 77 85 Marcos 85 94 Questa è una bestia Signori miei Dobbiamo allenarlo Questo spagnolo German Bello All'esterno Abru 72 92 E Villalba 70 Allora buttiamo fuori Quelli che hanno Un overall Che arriva a 80 Raga Dobbiamo far spazio Non possiamo avere Tutti questi giovani Mi dispiace per loro Sanza è stato un piacere Anche perché comunque A centrocampo Siamo messi bene Quindi buttiamo fuori Lo svedese Ciao caro Tornata in Svezia Troverai un'altra squadra Sicuramente più simpatica Della nostra Potremmo promuoverli tutti E cercare di venderli Signori miei Ma non ha minimamente senso Non ha minimamente senso Rischiamo che ci restano Sul groppone Tutti quanti Ok Questi sono i nostri Titolari Diciamo Della panchina Mi porto a Bru Me lo porto direttamente In prima squadra Perché non abbiamo Un esterno destro Da poter sostituire Con il nostro Il nostro Vestino drollo Quindi va bene così Andiamo a parlare con Naga Che non so che problemi abbia Naga Che c'hai Naga Grazie per il venire Apprezzo e prendere un impegno Bravo Naga Dagli così La classifica inizia A farsi interessante Siamo ora a 7 punti Dal sesto posto Signori miei 7 punti dal sesto posto Ci rimane L'ultima partita Dal video di oggi Riuscissimo a fare 3 vittorie su 3 Porca di una miseria Starebbe tantissima roba Sarebbe tantissima roba Siamo contro il Birmingham La squadra non è molto riposata Facciamo giusto giusto 2-3 cambi Leviamo Morris Facciamo giocare Naga Leviamo Raid Che purtroppo si stanca subito Gioca Mariani Fuori Warwood Dentro Hamilton E comunque si è comportato bene E gli altri Lasciamo così Dai così Dai così Raga Se dovessimo riuscire a fare Abbiamo fatto 6 punti fuori casa Raga Questa se non sbaglio Ha in casa Contro il Birmingham Se perdiamo questa Che la giochiamo in casa C'è assurdo Hanno pareggiato contro il Queen Park Rangers Raga Noi ci abbiamo vinto Che c'è fama con il Birmingham 3-1 3-1 ragazzi 3-1 Spettacolo Spettacolo Allora è uscito drollo Per Watanabe Però non per infortunio Ammoniti Mariani Amponsà E in gol sono andati Hamilton Grande Hamilton Il nostro Caccia Dei Caccia Dei è andato in gol E il nostro Naga Grande Naga Ma andati in campo Riesce a trovare il gol Bella così Bella così 3-0 3 partite 3 vittorie E Arriviamo a ridosso Della partita Della prossima partita Arriviamo a ridosso Della prossima partita C'è stato un attimo Che si è scollegato Sia il joystick Quindi il microfono Quindi ci sarà un attimo Un piccolo problema Tecnico e tattico Contro il Bristol Bristol C Noi siamo nonni a 35 punti Lo suon si è a 40 Raga siamo a 5 punti Dal sesto posto E il Bristol City E uno scontro diretto E sopra di noi Raga la vedete Qua la classifica E sopra di noi A due punti Sopra di noi Riuscissimo a battere Il Bristol Si inizia a fare interessante Questo campionato Ma detto questo ragazzoli Noi ci fermiamo qui Per questo video Vi ringrazio per la visione Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Che sta lasciando a questa serie Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao